Il processo più seguito al mondo è finalmente volto al termine. La giuria popolare, composta da sette civili, ha scelto di credere a Johnny Depp. Il famoso pirata ha vinto nel processo iniziato due mesi fa contro l'ex moglie per diffamazione. Ma veniamo subito al dunque. Johnny Depp, subito dopo l'annuncio della sua vittoria, ha dichiarato Sei anni fa, la mia vita, la vita dei miei figli, la vita di coloro che mi erano più vicini e anche la vita delle persone che per molti, molti anni mi hanno sostenuto e creduto in me, sono cambiate per sempre. Tutto in un batter d'occhio. Accuse false, molto gravi e criminali mi sono state rivolte tramite i media, il che ha innescato una raffica infinita di contenuti odiosi, anche se non sono mai state mosse accuse contro di me. Aveva già fatto il giro del mondo due volte in un nanosecondo e ha avuto un impatto sismico sulla mia vita e sulla mia carriera. Sei anni dopo, la giuria mi ha restituito la vita. Sono veramente onorato. La mia decisione di portare avanti questo caso, conoscendo molto bene l'altezza degli ostacoli legali che avrei dovuto affrontare e l'inevitabile spettacolo mondiale della mia vita, è stata presa solo dopo aver riflettuto a lungo. Fin dall'inizio, l'obiettivo di portare questo caso era quello di rivelare la verità, indipendentemente dall'esito. Dire la verità era qualcosa che dovevo ai miei figli e a tutti coloro che sono rimasti saldi nel sostenermi. Mi sento in pace, sapendo di averlo finalmente raggiunto. Sono e sono stato sopraffatto dall'effusione di amore e dal colossale sostegno e gentilezza da tutto il mondo. Spero che la mia ricerca per dire la verità abbia aiutato gli altri, uomini o donne, che si sono trovati nella mia situazione e che coloro che li sostengono non si arrendano mai. Spero anche che la posizione torni ora all'innocenza, fino a prova contraria sia nei tribunali che nei media. Desidero ringraziare il nobile lavoro del giudice, dei giurati, del personale del tribunale e degli sceriffi che hanno sacrificato il proprio tempo per arrivare a questo punto e al mio diligente e incrollabile team legale che ha svolto un lavoro straordinario aiutandomi a condividere la verità. Beh, dobbiamo proprio dirlo, molti di noi si aspettavano che Johnny Depp concludesse con la celebre frase.